Forza Italia e i ferricorti si dimettono i coordinatori dopo il commissariamento del partito in Puglia. Lavoro va sempre peggio in mobilità a 200 dipendenti della Coppa in tutta la regione. Passeggiando in bicicletta è il nostro live con chi torna a casa sulle due ruote. Facciamoci un esame di coscienza in vista della gara contro il Lanciano l'attaccante De Luca invita il Bari ad una reazione forte. Buonasera diretta dalla redazione di Telebari come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto nella nostra città ma anche quello che sta accadendo in queste ore. Indubbiamente parleremo di politica, lo faremo commentando quello che sta accadendo in Forza Italia. Abbiamo titolato Forza Italia i ferricorti perché quello che si sta consumando è una vera e propria rottura all'interno di Forza Italia con effetti anche in Puglia. Lo commenteremo con l'onorevole Salvatore Tattarella che ci raggiungerà nei nostri studi tra pochi minuti. Ma intanto partiamo proprio dalla rottura in Forza Italia. La confusione regna sovrana. A pronunciare queste parole Raffaele Fitto parlando del partito in Puglia. Questa mattina la dimissione di tutti i coordinatori locali di Forza Italia. Sentiamo. Forza Italia non trova pace. Questa mattina si sono dimessi in blocco i coordinatori provinciali Ghibari, Bat, Taranto, Foggia e Lecce. Luigi D'Ambrosio Lettieri, Luigi Perrone, Antonio Gabellone, solo per citarne alcuni. Forzisti storici, tutti fittiani doc. Così come il coordinatore regionale vicario Antonio Distaso che ha fatto un passo indietro assieme ai vice Roberto Marti e Riccardo Memeo. La reazione è forte e il motivo non è difficile da intuire. Ha un nome e cognome, Luigi Vitali. Il commissariamento del partito pugliese deciso da Berlusconi ha colpito in piena pancia gli azzurri di casa nostra, già messi a dura prova dal percorso per la scelta del candidato alla presidenza della regione. Rimettiamo il nostro mandato, si legge nella nota, e liberiamo il commissario incaricato dall'onere di valutare il nostro livello di allineamento al nuovo corso, sgombrando il campo da qualunque equivoco sulla nostra coerente battaglia, al fianco di Fitto, per una reale ricostruzione del partito e del paese. Non le mandano a dire, insomma, l'ironia si spreca, ma è una rabbia che non sorprende nessuno. La confusione regna sovrana, ha dichiarato Raffaele Fitto, che però ribadisce e non ha intenzione di uscire dal partito. Questa, dice, è una battaglia di metodo e criterio. Il gruppo Matarese verso il salvataggio. L'ultima parola aspetterà la quarta sezione del Tribunale di Bari, ma secondo indiscrezioni sembrerebbe che per l'impresa di costruzioni sarebbero per aprirsi le porte del concordato. Sul tavolo ci sono debiti per quasi 300 milioni di euro a fronte di un attivo di 180. Intanto il gruppo Matarese colleziona commesse da decine di milioni di euro in tutta Italia. L'ultimo appalto vinto dalla vecchia impresa, per intenderci quella che potrebbe salvarsi con il concordato riguarda il raddoppio della tratta Ruvo di Puglia-Corauto della linea ferroviaria Bari-Barletta. Lavori per oltre 20 milioni di euro che saranno assorbiti nella Matarese SRL. Una nuova società che ripulita dai debiti può ripartire da zero con la garanzia di tutti gli appalti vinti fino ad ora dalla vecchia società. Insomma il concordato salverà la Matarese con i suoi 300 milioni di euro di debiti, la sua crisi di liquidità e i problemi con le banche. E' un'alta vertenza di lavoro, stiamo parlando della crisi della Coppestense in Puglia, una grave minaccia per l'occupazione. A rischio 200 posti di lavoro, il bilancio oggi in una conferenza stampa con il presidente regionale della cooperativa Mario Zucchelli. C'era per noi Cristina Ferrigni. 50 milioni di euro persi in 5 anni e il bilancio negativo della Coppestense in Puglia, un tracollo imputabile alla riduzione dei consumi e ad una struttura dei costi insostenibile. Lo afferma il presidente regionale della cooperativa Mario Zucchelli che in una conferenza stampa ha ufficializzato i dati della crisi ad aggravare la situazione, la concorrenza illegale sul mercato, lavoro nero, usura, evasione e frodi. Già pronto il piano di recupero delle perdite con una nuova politica commerciale, rilancio delle vendite e abbattimento dei costi per oltre 1,2 milioni di euro e la mobilità di oltre 200 lavoratori. Noi dal costo del lavoro ci aspettiamo un contributo o meno di un terzo dell'abbattimento della perdita che pensiamo di avere, un altro terzo lo vogliamo recuperare da altri costi e un altro terzo da un aumento dei ricavi dalle vendite e dalla nostra attività commerciale. Ma siamo pugliesi, cioè siamo gente che sta insieme in un contenitore che li contiene tutti, quindi non possiamo uscire dalla Puglia perché siamo pugliesi e quindi faremo l'impossibile per restare. Coppestense si dichiara pronta ad un confronto con i sindacati per salvaguardare i posti di lavoro ed evitare la mobilità. Nonostante tutto ad una delegazione di sindacati e lavoratori non è stato permesso di partecipare alla conferenza stampa di oggi, la denuncia del rappresentante Filmcams CGL Antonio Miccoli. Ci dispiace che ci troviamo in una condizione che dobbiamo apprendere le decisioni di un piano più o meno poliennale che vuole assumere coppestense su questi territori attraverso i mezzi a stampa. E allora oggi vogliamo raccontarvi la Bari delle due ruote perché il nostro live si concentra su chi utilizza il mezzo ecosostenibile per eccellenza, stiamo parlando chiaramente delle biciclette, non so se siamo in grado di collegarci già con la nostra Silvia Dipinto, probabilmente no perché non li vedo pronti per il collegamento, allora non appena sarà possibile la regia mi chiederà la linea. Intanto andiamo avanti con la cronaca, geloso dell'ex moglie, la ferisce a pistolettate, arrestato dai carabinieri un operaio di Bitonto. La donna è grave ed è ricoverata a Bari, la cronaca ha in questo servizio. E' stato rintracciato dai carabinieri e arrestato a casa della sorella Bitonto, Rinaldo Modesto, l'operaio di 50 anni che ieri sera ha sparato all'ex moglie grazie a Murgolo di 47. La donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Paolo, un raptus di gelosia all'origine del folle gesto. La coppia con tre figli era separata da più di un anno, lui era convinto che la moglie avesse un'altra relazione, così ieri, giorno del suo compleanno, l'attesa sotto casa l'ha affrontata e dopo una lite ha aperto il fuoco con una scacciacani modificata, quattro colpi di pistola che hanno ferito grazie a Murgolo ad un rene, ad un polmone e al fegato. Il ferimento è avvenuto per strada in via senatore Silos nella frazione di Palombaio. Accecato dall'ira, l'operaio ha tentato di sparare anche contro il genero che era sceso in strada dopo aver assistito alla terribile scena dal balcone di casa. Modesto non ha confessato, ma ha permesso ai militari della compagnia di Molfetta di recuperare l'arma usata nel tentato omicidio. La pistola era sotterrata e coperta da una pietra nella villa comunale del paese. E questa mattina la Commissione di Centramento a Palazzo di Città si è occupata di trasporto disabili in vista del trasferimento delle deleghe ai cinque municipi, numero di diversamente abili e di mezzi preposti a questo servizio. Per ottenere queste informazioni sarà presto contattato l'assessorato al welfare. allo studio dei consiglieri e anche alcune falle nel sistema di trasporto a chiamate sui procedimenti per accedere al servizio. E siamo al calcio, sabato gara delicatissima per il Bari contro il Lanciano. Sentiamo l'appello dell'attaccante De Luca. Sicuramente la colpa non è dell'allenatore, è la colpa dei giocatori. La colpa è nostra perché comunque con una squadra come la nostra non fare neanche un tiro in porta contro il Vicenza, ma con tutto rispetto due punti di domanda ce li facciamo. Perché comunque durante la settimana l'allenatore non è che sta in panchina e non spiega niente, anzi, e quindi dobbiamo anche l'entrano dei giocatori e facci un esame di coscienza. Perché con il Vicenza non puoi non tirare in porta una volta. L'Associazione Fioristi della Puglia ha organizzato un incontro questo pomeriggio presso la Sala Congressi della Camera di Commercio per discutere della regolamentazione del settore e della proposta di legge sulla certificazione europea della figura del floral designer. Il presidente Emilio Lorusso ha sottolineato l'importanza di una disciplina per una professione che pur richiedendo una preparazione e uno studio approfondito di discipline come l'architettura vede oggi molta improvvisazione senza alcun riconoscimento formale che qualifichi l'effettiva professionalità di queste figure. Un intervento giuridico che appare oggi ancora più necessario se si pensa che solo nella nostra regione si contano circa 2000 fioristi. Vivi un giorno d'astronauta alla mostra didattico-scientifica fino all'8 marzo nel centro commerciale mongolfiera di Molfette. Dettagli di questa iniziativa nel nostro servizio. Da grande voglio fare l'astronauta. Quante volte i bambini lo hanno pensato, sognato? Un sogno che grazie al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta è pronto a diventare realtà. A partire dal 16 febbraio fino all'8 marzo bambini dai 5 agli 11 anni possono partecipare ad un'avventura a dir poco spaziale. A metà strada tra scienza e fantasia, tra storia ed intrattenimento per la prima volta in Puglia arriva Vivi un giorno d'astronauta. L'esclusiva mostra didattico-scientifica che il centro commerciale proporrà appunto dal 16 febbraio all'8 marzo, da lunedì alla domenica, ad ingresso gratuito. Una vera e propria missione nello spazio che regalerà ai bambini delle scuole che interverranno l'emozione di toccare il cielo con un dito. Un evento fortemente voluto dal centro. In settimana, il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 20 e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 20 sarà invece aperto al pubblico. Un momento ludico che si unisce a quello formativo garantito dalla presenza di esperte guide che accompagnano le scuole lungo un tour ben studiato. Un'esposizione interattiva articolata in tre aree culturale, terrestre e lunare con ampi spazi espositivi ricchi di foto, filmati storici e la possibilità di indossare la tuta spaziale per andare sulla Luna. Allora, dovremmo essere pronti forse per collegarci con la nostra Silvia Di Pinto in compagnia di alcuni ciclisti su una delle piste ciclabili di Bari. Silvia, buonasera. Sì, ciao Alessandra. Non so se mi vedi, magari dammi un cenno se siamo riusciti a ripristinare il collegamento. Allora, ti dicevi bene, oggi vogliamo provare a capire come si vive qui a Bari da ciclisti. Lo ricordiamo, lo dicevi certamente bene tu, ci sono poche piste ciclabili che vengono percorse ogni sera dai ciclisti per tornare a casa e poi ci si ritrova spesso in punti piuttosto pericolosi. Allora oggi hanno deciso di accompagnarci in questo percorso gli amici del ciclosfazio e gli amici dell'associazione 9 Maggio ma anche i pattinatori di Bari e i ciclisti che spontaneamente si sono uniti a noi. Ci troviamo adesso su Via L'Unità d'Italia e proveremo a fare il percorso fino a Corso Mazzini l'altra pista ciclabile della città di Bari. Allora io direi che possiamo cominciare a camminare e magari ci seguite in questo percorso ci collegheremo tra pochissimo e vedremo un po' come ce la caviamo per tornare a casa. Perfetto, allora ringraziamo Silvia per questo primo approccio alla storia che vi vogliamo raccontare oggi la Bari sulle due ruote intanto stiamo vedendo le immagini di questa corsa lungo le fiste ciclabili di Bari ma torneremo sul tema anche per capire come questo mezzo di trasporto si riuscirà davvero ad integrare con gli altri mezzi di trasporto a Bari e parleremo chiaramente anche di politica subito dopo la pubblicità insieme all'onorevole Salvatore Tatarella tra poco.